Ciao cari amiche, eccoci ritrovati a una nuova puntata. Oggi veramente speciale e tanti cuoricini. Allora per San Valentino delle volte è sufficiente dire la bellissima parola ti amo, love me, si può dire, si può scrivere, si può lasciare un po' stick sul frigorifero, sugli spazzolini, su un cuscino, non è che serva ricevere fasci di rosa, anche se la rosa arriva ben contente siamo, insomma magari con un bel messaggino, con un bel ti amo. Allora per oggi quindi che cosa vi ho preparato? Una scrittura facile facile dedicata a tutti i nostri mariti, morosi, amanti, amici speciali, ci sono tante categorie, mi raccontano, così mi dicono. Allora magari avete una scrittura peggio di quella dei dottori, perché si sa che i dottori scrivono malissimo, quindi applicatevi, uomini applicatevi. Oggi è una donna, è così oggi ragazze prendetemi così, quando si parla di certi argomenti bisogna essere un po' così, ragazze, voi cosa pensate care amiche? Allora, scrivete con un bel font il termine che volete, ti amo, love, je t'aime, ok? Io vi ho preparato le schede per realizzare queste paroline qui, anche bello grande, come vedete, proprio grande, grande, grande. Adesso facciamo una carrellata e un piccolo trucchetto per chi non è assolutamente capace di scrivere, le ricalcate, le ricalcate, ok? È permesso ricalcare, oggi è permesso ricalcare. Allora, prendete un foglio, andiamo sulla parola love, la vedete, cioè io la vedo poco poco, voi dalla camera non la riuscirete a vedere, però non importa, andiamo con i nostri tratti, in questo modo qua, facciamo la O, facciamo la nostra V, in questo modo qua, in un tratto molto leggero, leggero, ok? Allora, due esercizi di base prima, eh? Allora, li mettiamo qua, così li facciamo vedere. Due esercizi di base prima, prima di iniziare per fare un po' di regole. Quando si inizia con il nostro, adesso, la nostra scrittura così creativa, il nostro lettering, bisogna sapere questi esercizi qua. Allora, tutti i tratti che salgono sono leggeri, tutti i tratti che scendono sono grossi, tutti i tratti che scendono sono grossi, tutti quelli che salgono sono leggeri. Allora, questi esercizi ci servono per scaldare la mano e sono i tratti principali della nostra scrittura. Ecco qua, adesso andiamo a fare quest'altro, che scende così e risale. Allora, questo qua, vedete, deve essere più grande, quindi lo potete andare anche a riprendere se sbagliate. Scendiamo grossi, risaliamo sottili. Questo è un brush pen, è un penarello speciale per questi giochini, ok? di grosso e sottile, perché è una punta pennello, cioè si schiaccia come se noi stessimo usando veramente un pennello, ok? Se vi applicate potete fare anche un bel quadro, un bel quadro lineare con una bella parola scritta in grande, la frase che voi desiderate. Ricalcatela, non c'è problema, ma applicatevi. Allora, il tratto sottile e il tratto grosso, quindi ripetiamo velocemente, tutti i tratti che salgono sono sottili, tutti i tratti che scendono sono grossi, quindi come vedete gli esercizi base sono sempre, sempre fondamentali. Adesso andiamo a vedere la nostra parolina love. Loveami. Allora, abbiamo fatto il nostro tratto, quindi questo è un tratto che scende grosso, si ferma e fa il trattino sottile. Per quanto riguarda la O, partiamo da qua, scendiamo grossi, saliamo sottili, facciamo tutta questa parte qua perché sale, poi riscendiamo schiacciando la punta in questo modo perché abbiamo la nostra parte, questa qua della nostra O. La V è abbastanza arrotondata, quindi scendiamo grossi perché qui si scendeva, si risale sottili, si riscende grossi. La E si sale sottili e si scende grossi. Quindi è veramente molto molto semplice fare la parola love, è semplicissimo. Adesso andiamo a vedere come si può scrivere la parola ti amo. Mi posiziono qua per essere sempre a favore di camera. Ecco qui abbiamo posizionato per bene. Quindi, ricalicate, non c'è problema. La T si fa così, la nostra I, la A grande si fa in questo modo qua. La M, facciamo proprio un tratto semplice semplice per poterlo andare a scrivere per bene. Allora, la T si scende con il tratto grosso e si va subito con un tratto sottile. La nostra I, si scende grossi, si sale sottili e si fa il nostro bel puntino. Qui siamo stati molto vicini, ma ci sta. Si sale sottili, si scende grossi. Vi ricordate qua i nostri esercizi? Vedete? Eccoli qua i nostri esercizi dove si ritrovano. Anche se i font cambiano, non importa. Gli esercizi sono sempre quelli. Abbiamo fatto la A. Per la M si scende grossi, si scende grossi, si scende grossi, si sale sottili. Quando si scrive non si fa così. Quando si scrive si deve andare tutti con il tratto per bene, ok? Ma noi non stiamo scrivendo, noi stiamo facendo una scritta in modo creativo, stiamo facendo un tratto creativo. Perché usare la parola scrittura creativa uno pensa di scrivere una poesia. No, noi stiamo scrivendo, stiamo facendo un tratto con della fantasia. Partiamo dalla nostra O, facciamo un tratto grosso, saliamo sottili, come vedete, possiamo anche ripassare sul tratto già dato. Quando stiamo qua, scendiamo, però dobbiamo lasciare un po' di spazio in questo punto qua. Cioè, questo punto qua, dobbiamo lasciare un po' di spazio. Quindi andiamo a scendere, schiacciamo la punta e risaliamo. Come vedete, poi posso anche risalire molto di più, ok? Più, però deve essere un po' più naturale. Ecco qua. Il bello di questi pennarelli è che non si vede le varie aggiunture, sono fatti apposta. Ci manca questo trattino per unire. Quindi vedete che è molto, 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 molto semplice. Andiamo a vedere jetem, ok? Allora, andiamo a riposizionare il nostro foglio e adesso andiamo a ricalcare la parola jetem. Ecco qua. Quindi andiamo a far così. A, I e la nostra M. Allora, per riuscire a scrivere queste semplici parole a mano libera, bisogna fare veramente tantissimo, tantissimo esercizio. Come si fa l'esercizio? L'esercizio si fa almeno 15 minuti al giorno, ok? 15 minuti al giorno, esercitandosi, facendo prima gli esercizi di base e poi magari ripetere le lettere che ci sono un pochino più difficili, perché ci sono alcune lettere che ti vengono subito benissimo, altre lettere che fanno fatica a venirti bene. Io ci sono, quando mi innamoro del lettering, scrivo, scrivo, scrivo per delle settimane e mi vengono delle cose bellissime. Quando smetto anche solo per tra o quattro giorni, la mano si perde, ragazze. Si perde. Quindi questo è proprio una di quelle tecniche che devi continuare, continuare a fare esercizio, come suonare uno strumento, devi sempre fare esercizio. Non è che perché l'hai fatto per degli anni lo sai fare bene, no, bisogna sempre farci esercizio. Allora andiamo a vedere questa questa bella parola, quindi scendiamo, risaliamo, andiamo a taglio. La E parte sottile, scende grossa e risale. Facciamo subito anche questa. La T scende grossa, fa una bella rotondità, vedete, una bella rotondità e sale leggera. La nostra A parte sottile, scende poi più grossa, risale sottile, scende grossa e risale leggera. La nostra I scende grossa, risale sottile. La nostra M scende, 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 sale, sale, sale. Vedete come è facile farla così. Logicamente se io la dovevo fare in scrittura era sicuramente più difficile, però ripeto, questo è proprio un giochino per lavorarci. risalgo leggera, scendo e scappo via. E la nostra parolina la terminiamo con la nostra scrittura così. Questo è veramente molto, molto, molto semplice da fare. Adesso andiamo a vedere per scriverlo in un modo ancora più grosso. Allora, come vedete, questa è veramente molto, molto semplice. Vi ricordo che potete scaricare il modello, come adesso ve lo faccio vedere per bene qui. Ecco qua. Potete scaricare, potete trovare le mie dispense sul mio sito creareinsieme.it, ve le preparo. E poi, come vi dicevo prima, potete farlo anche con delle letterine più, cioè con dei fogli ben più grandi, trovate anche anche queste. Vi consiglio di utilizzare dei pennarelli come questi o potete utilizzare senza problemi il pennello, un pennello, un pennello serbatoio, un pennello comunque a punta sottile, utilizzando magari anche i colori che avete, che vi sono avanzati per la decorazione del mobile. Il bello di poter rivedere tutti i video sul mio canale YouTube Lara Bella Video è che potete fermare, guardare, ripetere, fare tutto l'esercizio che desiderate. Io vi saluto, vi ricordo che potete seguirmi su tutte le mie pagine Instagram, se vi piacciono le cose che faccio, seguitemi su Lara Bella Creare Insieme, se mi seguite sul canale e rivedete tutte le puntate sul canale YouTube di Lara Bella Video, cliccate sulla campanellina che così vi arrivano tutte le mie notifiche. Se avete bisogno sapete che mi potete contattare al mio numero WhatsApp, che dire, vi amo, vi amo veramente tantissimo. Buon San Valentino. Ciao ciao!